Ambasciatore Alberto Bradanini, il Mario Draghi di oggi, quello che è qui, che sta finendo le consultazioni, è il Mario Draghi delle origini chiennesiani o il Mario Draghi della Goldman Sachs, del gruppo dei 30, membro della trilaterale fondata da David Rockefeller? Cosa ci attende? Chi è veramente in questo momento Mario Draghi? Chi rappresenta e perché è qui in questo momento? A mio avviso la domanda sulle ragioni della genesi del governo Draghi è di natura strutturale. Bisognerebbe indagare per quale ragione la ruling class, cioè la classe dei dominanti che tira sempre le fila, ha improvvisamente cambiato registro. Normalmente c'è una governing class, cioè una classe politica di facciata, quella che vediamo, alla quale viene affidato il compito di gestire nella forma lo Stato, di assicurare la sicurezza pubblica, i carabinieri, la polizia, come si dice, e invece la sostanza dei rapporti fondamentali tra chi ha e chi non ha, insomma tra il dominio e la sottomissione è gestita da lontano. Allora, normalmente questa è stata la suddivisione dei compiti. Poi cosa è successo, almeno in Italia, lasciamo da parte quello che succede nel resto del mondo, negli ultimi decenni è arrivato Berlusconi, che in qualche misura ha costituito una novità, perché c'è stata una sovrapposizione tra questi due livelli. La classe dei possidenti si è sovrapposta alla classe politica, che formalmente gestisce lo Stato, sebbene dietro la struttura di potere di Berlusconi, c'erano comunque i piccoli nani che tiravano le file della scena e del palcoscenico. Oggi c'è un ulteriore avanzamento, un avanzamento verso una dimensione più globalista, perché un rappresentante della classe globalista finanziaria, quella che governa il mondo, ha deciso di scendere in campo direttamente e probabilmente è stato autorizzato a farlo. Lui è il rappresentante di interessi sovrastanti che porta con sé, nessuno può nascere a 70 anni, insomma da una storia pregressa, come se fosse un neonato. Evidentemente una persona che ha fatto parte del gruppo Bilderberg, della Trilaterale, del gruppo dei 30, dell'Aspen Institute, ha diretto la Banca Centrale Europea e così via di seguito, vicepresidente della Goldman Sachs, non può improvvisamente spogliarsi di tutto ciò per occuparsi solo ed esclusivamente degli interessi del popolo italiano. Allora come mai c'è improvvisamente questa sovrapposizione da parte di questi due livelli che non sono più solo nazionali, quindi una ruling class internazionale e la governing class italiana. Questa è una questione aperta che per il momento rimane aperta, non attento una possibile risposta. Passo però ad un altro livello di ragionamento e cioè lui è un rappresentante, se vogliamo, della oligarchia europea nello stesso tempo, oltre a quello che ho detto prima. Allora bisogna tenere conto che il progetto europeo non è mai stato un progetto di sinistra, è sempre stato un progetto fondato sulla nazione del compromesso, compromesso tra Germania e Francia, Germania occidentale a suo tempo e Francia, quando è nata, quando ha mosso i primi passi, e poi compromesso tra capitale e lavoro. E se si vuole un compromesso che era nella natura delle cose, perché i partiti socialdemocratici che hanno accettato questo compromesso erano al loro interno un risultato di compromesso, perché in particolare a partire dal 1991 con l'implosione dell'Unione Sovietica hanno rinunciato alla tutela del mondo del lavoro e della protezione sociale per sposare l'economicismo e cioè la prevalenza, come è stato detto poco fa da Marco Rizzo, della politica, delle ragioni, pardon, dell'economia, delle ragioni economiche sulla politica. Questo background lui se lo porta dietro, l'Unione Europea è nata in questo modo ed è cresciuta, i trattati sono intrinseci a questo ragionamento e coloro che si dichiarano europeisti dovrebbero, soprattutto dal punto di vista della sinistra, chiedersi se le ragioni sono ancora giustificate e se c'è qualche possibilità di proporre qualche modifica, se non, come dicono invece gli anti-europeisti, cercare di smantellare questa costruzione patologica per ricominciare su basi diverse. Ma un'ultima cosa, non voglio prendere troppo tempo, poi se mai avrò tempo ci tornerò su, è che come ebbe a dire la Merkel e poi dopo di lei Schäuble, che è stato il suo ministro delle finanze, quando si fanno le elezioni bisogna fare attenzione, perché le elezioni devono rispondere alla nozione di market conform, cioè ci sono delle regole di mercato a cui devono rispondere. I greci possono votare, non c'è problema, ma qualunque sia l'esito ci sono delle regole a cui devono assoggettarsi. Quindi io temo che in questo contesto anche le elezioni non sarebbero servite a nulla. Io sono molto pessimista, nel breve termine non può cambiare, perché la struttura dei rapporti di potere a cui siamo arrivati è una struttura immodificabile nel medio termine. Certo, rimane l'ottimismo della passione, ma dobbiamo fare i conti con il pessimismo della ragione. Un'ultimissima cosa concerne, ahimè, purtroppo, la nostalgia di una classe dirigente diversa. Quando l'Italia, uscita dal secondo conflitto mondiale, aveva bisogno di una qualità della classe dirigente, fosse essa di sinistra, di centro o di destra, ma era comunque elevata una qualità di sostanza, una qualità che aveva a mente gli interessi del popolo italiano. E guardate che questo non ha nulla a che vedere con sovranismo, nazionalismo, tutte queste stupidaggini che riguardano un lessico denigratorio nei confronti dell'oppositore politico quando non si hanno altri argomenti. Allora, oggi abbiamo a che fare con una qualità della classe dirigente minima. E come mai? La ragione strutturale, ancora una volta, è perché il nemico numero uno del globalismo finanziario, che, certo, fa capo al corporativismo americano, giù per l'Irami, l'oligarchia tedesca oppure nord-europea, ecco, questa struttura di potere ha come numero uno, come nemico numero uno, lo Stato. Lo Stato deve essere depauperato sia nelle sue risorse finanziarie e materiali, ma anche nelle sue risorse umane. Quindi i suoi rappresentanti possono anche essere presi per la strada. Non importa, anzi, meglio così, perché così facendo non c'è la possibilità che si organizzi o si riorganizzi una opposizione contro il globalismo finanziario e della classe, insomma, dominante della finanza, della grande finanza corporativa, che comanda nel mondo occidentale. Chiudo con una piccola parentesi. Per fortuna che nel mondo c'è qualche speranza che con tutti i suoi limiti, i paesi, naturalmente, che vengono individuati come nemici della gente, nemici della libertà, ma che tengono in piedi la libertà di una possibile alternativa. Non è vero, quindi, come diceva la Thatcher, che there is no alternative. L'alternativa c'è, ci sarà sempre, finché ci sarà la coscienza umana di lavorare per i bisogni profondi dell'essere umano. Ambasciatore, secondo la sua analisi, potremmo definire Mario Draghi come un esponente dei padroni universali, così li chiamava Giulietto Chiesa, oppure una semplice emanazione? Non sono in grado di rispondere in maniera precisa, ma certamente, alla luce di quello che ho detto, reputo che lui sarà comunque uno strumento a tutela degli interessi della classe dominante. Noi non possiamo non mettere in evidenza che l'Italia non è un paese autonomo. Non è un paese autonomo da punto di vista politico, perché siamo occupati militarmente dagli Stati Uniti d'America, da 75 anni, con 15 o 20 mila soldati e forse 70, 80, 90 addirittura, secondo alcune stime, ordigni nucleari e non c'è più un nemico a cui tenere testa. Quindi in queste condizioni nessun governo è politicamente indipendente. sul piano economico e finanziario siamo dipendenti appunto da una struttura tecnocratica, le istituzioni di Bruxelles, della cosiddetta Unione Europea, che è pilotata da Berlino, come sappiamo, per quanto riguarda la politica monetaria, l'eurosistema, e per quanto riguarda le scelte di politica fiscale, addirittura di politica commerciale ed economica, nell'insieme la legge finanziaria italiana, l'atto più importante del Parlamento italiano, deve essere sottoposto al vaglio della Commissione Europea una settimana prima che sia discussa in Parlamento nella violazione più plateale della Costituzione materiale del nostro Paese, non della Costituzione formale, ma quella conta fino a un certo punto. Ecco, in queste condizioni bisogna tener conto, bisogna ricordare anche che l'Unione Europea ha imposto delle scelte di politica economica che non sarebbero mai passate, ma non solo in Italia, ma anche negli altri Paesi, perché le forze sociali di questi Paesi si sarebbero opposte se non fossero state imposte dall'Europa, nell'ambito di un percorso che è una mistificazione, cioè la costruzione di un'Europa federale, perché se la cessione di sovranità dovesse consentire il passaggio di mano diciamo da una democrazia nazionale ad una democrazia sovranazionale si potrebbe discutere. Io sarei comunque contrario perché anche in quel caso bisognerebbe fare attenzione che i Paesi più forti e più potenti non schiaccino i Paesi più piccoli e più deboli, ma in ogni caso sarebbe un percorso legittimo, ma così non è. Quindi abbiamo ceduto delle prerogative democratiche a favore di una tecnocrazia non democratica. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile che il sistema italiano in tutte le sue articolazioni, quello politico, quello finanziario, quello economico, quello sociale, i sindacati, i partiti politici, di destra, di sinistra e di centro, ma dove erano? Dove sono? Di fronte a questa cessione di poteri costituzionalmente protetti a delle entità che rispondono ad interessi e a privilegi altrui. Ecco, prima di passare alla Cina volevo quindi centrare la sottolineatura sul concetto di sovranità, perché senza il recupero di questa sovranità che per Gramsci non per diciamo la narrativa politica novecentesca dei nazionalismi distruttori insomma di ogni libertà come sappiamo per Gramsci diceva che l'internazionalismo quindi insomma la prospettiva di una idealità di riconoscimento insomma delle espressioni più umane dell'uomo ebbene comincia sotto casa, comincia a casa nostra. Quindi noi dobbiamo recuperare la possibilità di immaginare una società diversa, nuova, più libera e più equa e più giusta a casa nostra prima di guardare altrove e la stessa immigrazione dovrebbe essere consentita o ipotizzata solo in una chiave di questo genere soprattutto senza le condizioni dell'austerità perché in condizioni di austerità l'immigrazione libera cioè l'amore universale non ha nessun senso è solo uno strimento nelle mani della oligarchia finanziaria chiusa questa parentesi e brevemente la Cina e la Russia soprattutto la Cina c'è chi dice che l'economia cinese è una economia che assomiglia a quella occidentale in sostanza siamo di fronte ad una sorta di capitalismo con qualche variante il capitalismo insomma di Stato o qualcosa così che in fondo perché anche lì ci sono le multinazionali le tre o quattro ormai delle più grandi società al mondo secondo Fortune sono cinesi tra le prime dieci ebbene non è così non è così c'è una differenza sostanziale tra la struttura economica occidentale centrata sul corporativismo privatistico americano centrico che giù per l'Irami comprende anche e controlla l'origarchia nord-europea e poi quella non solo dei five eyes ma insomma dell'occidente diciamo dell'occidente alla Fukuyama o alla Huntington e cioè che comprende anche il Giappone l'Australia e questa gente qui e cioè l'occidente insomma centrato sulla finanza globalista ecco c'è una differenza sostanziale mentre in occidente appunto prevale quindi l'economia privata e quindi le corporazioni che rispondono ad interessi privati in Cina e negli altri residui paesi comunisti sono cinque che però gli altri sono evidentemente di spessore minore ma entro certi parametri anche in Russia l'economia è centrata sulla classe di Stato ecco perché il passaggio di generazioni da una leadership a un'altra costituisce un momento delicato addirittura potenzialmente destabilizzante perché non si sa in mano a chi finiscono questi asset sociali economici e finanziari del paese questa è la ragione per cui l'America è inquieta e infibrillazione perché non riesce a destabilizzare la Cina la Russia e gli altri paesi e quindi a renderli permeabili alla penetrazione corporativa quindi del capitalismo finanziario che sarebbe appunto americano centrico e allora diventa pericolosa e questo è l'aspetto che io vorrei sottolineare perché ormai gli Stati Uniti sono solo più una grande potenza militare sul piano economico finanziario e via di seguito stanno perdendo la loro preminenza assoluta e anche relativamente agli altri paesi ogni giorno di più questo mi fa pensare quando Guglielmo II il Kaiser prima della prima guerra mondiale nel 1905 quando c'era stato un tentativo di rivoluzione in Russia è andato poi in aria inquieto perché questa religione questa perdon questa rivoluzione poteva passare anche in Germania aveva inviato un messaggio al cancelliere tedesco Von Bulow e aveva suggerito di prendere in considerazione la possibilità di mandare i giovani in trincea perché così gli sarebbe passata la volontà di fare la rivoluzione ora siamo in un contesto diverso ben inteso però bisogna tenere presente che oggi una guerra sarebbe distruttrice del pianeta perché le tre sfide a cui siamo contrapposti che abbiamo di fronte sono non solo il globalismo finanziario di cui abbiamo parlato tutta sera ma anche la distruzione dell'ambiente e la guerra e la guerra oggi sarebbe una guerra tra potenze nucleari e una guerra che risolverebbe i problemi di fibrillazione delle nostre popolazioni che sono umiliate ogni giorno di più perché in fondo cosa cercano? Cercano come dicevo prima la sicurezza per loro stessi per le proprie famiglie un futuro per i propri figli come dappertutto in Cina come in India come in America perché se parliamo come parliamo nei confronti degli Stati Uniti d'America il popolo americano è un'altra cosa certo è bombardato dalla manipolazione mediatica come diceva Marco Rizzo e tutti gli altri e anche Alberto Michelezzi che ho apprezzato molto ma il tema centrale è che queste grandi potenze potrebbero essere tentate di dare una risposta alle loro inquietudini domestiche attraverso uno spostamento di priorità e di investimento anche personale con un qualche conflitto che lo cito soltanto come ipotesi estrema naturalmente credo che non ci siano insomma le condizioni storiche di immaginare perché si tratterebbe di un suicidio qualsiasi potenza nucleare che scatenasse un conflitto deve tenere in conto che verrebbe diciamo trattata con la stessa moneta dal paese che attacca se anche lui ha l'arma nucleare però è una è una questione così importante così esiziale per la sopravvivenza dell'umanità che non può essere scartata da persone come noi che hanno a cuore il benessere e che sono sensibili diciamo al perseguimento dei bisogni dell'essenza dell'umanità dell'essere umano nella storia ecco quindi mi auguro che queste discussioni possano possano mettere in moto una reazione non soltanto ed ho finito non soltanto sul piano nazionale con tutte le dizioni e contraddizioni che questo comporta ma anche sul piano internazionale perché ogni politica sia politica pura sia politica economica sia politica culturale oggi è confrontata ben inteso con una realtà oltre frontiera più molto di più che non nel passato a un l'escrizione a